Bentornati a un nuovo appuntamento di Dal Vivo. Nel collegamento di oggi abbiamo con noi Michele Benini, direttore del Dipartimento Sviluppo Sistemi Energetici dell'RSE, Istituto di Ricerca sul Sistema Energetico, con cui parleremo di un'iniziativa dal titolo Energia per Tutti, esempi virtuosi, strategie, emergenze europee e nazionali, in programma domani, giovedì 23 novembre, presso il Palazzo Reale di Milano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie a lei di essere qui con noi oggi, le chiedo subito di parlarci più nello specifico di questa iniziativa e del perché oggi è così tanto importante parlare di temi come questi. Sì, di fatto è un'iniziativa che nasce dal Club di Roma, il Club di Roma è un'organizzazione internazionale che è diventata famosa negli anni 70 con lo studio denominato I Limiti dello Sviluppo, in cui per la prima volta venivano evidenziati i limiti che le risorse del pianeta, essendo finite, ponevano allo sviluppo economico dell'umanità. Più di recente, il Club di Roma ha emesso un nuovo rapporto che si chiama Earth for All, Terra per Tutti, in cui tratta appunto in maniera aggiornata i problemi della sostenibilità dello sviluppo del pianeta. L'evento che stiamo discutendo in questa trasmissione è coorganizzato da noi, dal Club di Roma, da Earth for All e dal Comune di Milano. RSE che sta appunto per ricerca sul sistema energetico, è una società pubblica che si occupa appunto di ricerca in questo settore e il tema di domani sarà appunto quali sono le raccomandazioni del rapporto Earth for All in tema di energia. Noi stessi come RSE forniamo supporto tecnico al governo italiano per la definizione della pianificazione energetica nazionale e quindi il nostro ruolo è quello di rappresentare come la politica energetica nazionale recepisce le indicazioni che vengono date da questo rapporto Earth for All a livello globale. Perfetto, quindi nel convegno di domani, come diceva lei, uno dei temi principali che verrà trattato sarà appunto il rapporto Earth for All che mira a comprendere come accelerare il cambiamento sistemico per garantire il benessere per tutti su un pianeta che effettivamente ha delle risorse limitate. In cosa consiste e il suo intervento di domani come si collegherà a questa tematica? Sì, il tema principale, le raccomandazioni principali che il rapporto Earth for All fa sul lato dell'energia vedono al primo posto il perseguimento di una maggiore efficienza energetica. Peraltro anche la polizia energetica europea vede il principio Energy Efficiency First prima di tutto l'efficienza energetica come il principio base che tutti gli stati membri devono seguire nella propria pianificazione dello sviluppo del sistema energetico. È evidente che consumare energia in maniera efficiente è la cosa principale, la cosa più importante ancora prima di decidere come produrre l'energia che deve essere consumata. Quindi, alla base di tutto, una maggiore efficienza energetica. Come si può conseguire questa efficienza energetica? Il modo più efficace è quello di elettrificare i consumi. Quindi se io per riscaldarmi utilizzo una pompa di calore piuttosto che una caldaia a metano una pompa di calore elettrica. Se per muovermi utilizzo un'auto elettrica piuttosto che un'auto a benzina io elettrifico i miei consumi e consumo energia in maniera molto più efficiente perché un'auto elettrica piuttosto che una pompa di calore elettrica consumano da 3 a 4 volte meno energia di un'auto convenzionale piuttosto che di una caldaia a gas. Se però voglio elettrificare i consumi ho bisogno di energia elettrica pulita. E quindi qui la ricetta è sviluppare in maniera estremamente ampia le fonti rinnovabili elettriche. Questa è la ricetta che ci dà il rapporto Air4All e la stessa ricetta è stata utilizzata da noi di RSE nel disegnare lo scenario di sviluppo del sistema energetico nazionale che è alla base del cosiddetto piano nazionale integrato energia e clima. Come sapete l'Unione Europea dà agli Stati membri una serie di obiettivi di decarbonizzazione di riduzione delle emissioni di gas clima alteranti di sviluppo delle fonti rinnovabili e anche di incremento dell'efficienza energetica e ciascuno Stato Italia compresa deve descrivere in un piano che si chiama appunto piano nazionale integrato energia e clima come intende raggiungere questi obiettivi al 2030 e anche successivamente. Quindi lo scenario alla base di questo piano che noi abbiamo disegnato recepisce esattamente questa ricetta del Club di Roma quindi maggiore efficienza elettrificazione dei consumi e sviluppo delle fonti rinnovabili. Infine le chiedo quindi qual è l'obiettivo principale di questa iniziativa e che riscontro si aspetta dalle persone che vi prenderanno parte? L'obiettivo di questa iniziativa è descrivere questa ricetta della Porto Air for All capire come la politica europea si allinea a questa ricetta avremo tra gli ospiti il vice direttore del direttorato generale dell'energia della Commissione europea capire appunto come la politica energetica nazionale si allinea a questa ricetta quello che appena descritto e riportare anche esempi virtuosi di come alcune iniziative prese a livello nazionale possono andare in linea con questi obiettivi il ritorno che ci aspettiamo da questa iniziativa è di ottenere una maggiore diffusione una maggiore consapevolezza nel pubblico su queste tematiche e su quali sono le soluzioni più efficienti per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione che tutti a livello globale dobbiamo perseguire prima di salutarci ricordiamo che la registrazione sul sito per chi fosse interessato a partecipare all'evento è gratuita io la ringrazio per aver partecipato a questo collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro grazie a voi dell'invito e buona giornata a voi